Sì, mi sono divertito un sacco l'altra sera Ma se vuoi magari stasera ci rivediamo Sì, sì, per me va bene Ti prego no! Tutto ma non questo! Un altro video hai fatto? Ma non ti è bastato rovinarmi la vita nello scorso video? Di nuovo? Allora ragazzi, eccomi qui Oh, eccoti! Anzi, eccoci qui, purtroppo Ma come purtroppo? Cioè tu dici purtroppo a noi E noi che ti dobbiamo ascoltare che dobbiamo dire, scusa Guarda la sua espressione, anche lei lo sa che è una cagata gigantesca quella che sta per fare Le sue espressioni sono impagabili Cosa sta facendo? Ora non voglio parlare troppo di te, altrimenti ti faccio troppa pubblicità Cioè già che appare in un tuo video ti sta facendo un favore immenso Ma come minimo dovresti darle 100 euro in mano ogni volta che parla 16 anni sinceramente si deve fare tutt'altro e non spartorire Spartorire, far uscire fuori i bimbi praticamente Spartorire No, me lo segno perché non si sa mai Magari dimentico questa parola e farò di tutto Per far entrare in tutti i vocabolari del mondo la parola spartorire Veramente non prendete esempio Non prendiamo esempio da lei, eh Ma da te invece cosa stai facendo? Perché ti stai spogliando? Stai spogliando? Vedo che ha del potenziale Ok È una poco di buono quindi magari che ne so Visto che comunque adesso al giorno d'oggi le prostitute praticamente fanno strada Cioè fanno successo Io sono allibito Già che entra in un tuo video È spacciata In più le dè pure della prostituta Ma che c***o? Anche la sua espressione è come per dire Ma chi io? Ok andiamo con questo mio singolo rap Ma che c***o ridi? C'è qualcosa che non va in questo video Forse ho capito perché l'ha chiamata poco di buono Questo è un porno Signori se ascoltiamo l'audio senza video È un pornazzo Rocco Siffredi può accompagnare solo Sì brava così Brava così Continua eh È tornato io Stavo andando perfettamente il video E poi mi sbagli il rap Tu che sei un esperto me lo sbagli in questo modo Eh io veramente non ho parole Questo qui è il pezzo che adoro tantissimo Vai col coro Vai Ha fatto anche l'eco Vi rendete conto che questo video è online Su internet e tutto il mondo vi può vedere Lo sapete vero? Secondo me no Ma andatevene a fan Grazie a tutti